Inizialmente crescevamo queste creature mutanti per i loro sistemi nervosi per i GamePod. Ma poi abbiamo scoperto che erano anche molto sorridili. E così abbiamo aperto il ristorante che ora ci fa la copertura. Ma è ovvio che rimangono ancora indispensabili i componenti tra gli organi e i tipo allergeni per passare fino sui fatti sotto caso dei nostri amici. E a proposito dei nostri amici... Grazie a tutti. 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 ... 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 Grazie a tutti Grazie a tutti